Musica Cari telespettatori di Robi da Fedagri, ben trovati. Apriamo questa puntata specialissima, direi, in casa della cooperazione che ormai conoscete. Siamo a Torino, nella sede di Conf Cooperative. Oggi c'è l'assemblea del Capac. Ma oggi c'è un valore aggiunto importante, direi una puntata a doppio mandato. E l'apriamo per questo con il presidente regionale, Domenico Paschetta, che rappresenta il mondo delle cooperative. Perché? Perché un'assemblea, come dicevi tu prima, è il momento più alto per una cooperativa che è un'impresa speciale. È il più alto perché ovviamente c'è la lettura di un bilancio, che è un dato oggettivamente importante, ma c'è anche il momento elettivo, il momento elettivo che rappresenta la democrazia per eccellenza. E quando il momento elettivo dà slancio, dà valore al ricambio generazionale con grande serenità, beh, questo vuol dire che la cooperativa Capac, il gruppo, rappresenta un modello, un modello virtuoso della cooperazione che si sta disegnando. Sì, effettivamente è quello che ci rende diversi dalle altre imprese. Sono assemblee importanti, tra l'altro molto partecipate, di una cooperativa che è un po' una perla nell'ambito agricolo di Conf Cooperative. Io sono molto contento di essere qui stasera perché, oltre a rappresentare un'azienda che in questi anni ha saputo interpretare il cambiamento, è quindi stato anche da motrice e di esempio per le altre cooperative, per non sedersi ad aspettare che la crisi passasse, ma interpretare il cambiamento e cercare di incrementare la produttività e soprattutto le opportunità per i propri soci. Ma è anche un momento in cui c'è un ricambio importante, il Presidente lascia dopo tanti anni, ma quello che c'è da sottolineare è che si fa in un'assemblea serena, quindi il cambiamento è stato condiviso da tutta l'assemblea, ma soprattutto viene data a Michele Becchisi, il Presidente, una grande onorificenza, cioè il fatto di aver portato questa azienda ai massimi e lasciare nel momento più alto. E vogliamo anche spendere una parola speciale su Michele Becchisi, Michele Becchisi in quanto cooperatore da 37 anni alla guida del CAPAC, ma anche un prestatore di coraggio, un formatore per la classe cooperativa dirigente di ieri, di oggi e di domani. Perché Domenico? Sì, perché comunque anche per me è stato un supporto assolutamente importante in tutti questi anni in cui io ho operato in cooperative, perché comunque con la sua schiettezza, ma soprattutto col suo coraggio, ha sempre messo davanti a tutto l'interesse delle cooperative, delle imprese cooperative e dei suoi soci, senza secondi fini. E questo credo che sia sicuramente un esempio importantissimo, è lo stato per me, ma lo spero sia anche per i nuovi dirigenti cooperativa. Abbiamo parlato di una puntata speciale che dedicherei per metà al gruppo CAPAC e per metà ovviamente a Michele Becchisi. Vediamo un po' che cooperativa lascia oggi? Beh, intanto non lascia una cooperativa, lascia un consorzio di cooperative. e lascia un gruppo in buona salute, senza problemi vecchi da risolvere, con alcune indicazioni importanti per recuperare redditività e margine per l'azienda agricola. CAPAC come super cooperativa, per dirla bene, perché sei riuscito a creare un clima di gruppo laddove prevalevano magari inizialmente i campanini. Questa è stata la sfida più importante che hai vinto, che tutti ti riconoscono e che ha permesso anche di fare salvaguardia della cooperazione in un momento difficile, soprattutto per il vostro settore. Possiamo fare anche una battuta sul bilancio che oggi hai presentato. Ma dunque, il problema dell'agricoltura, cioè la forza dell'agricoltura, se vogliamo, spesso è la capacità di resistenza, la capacità di fare dei sacrifici, l'attaccamento del territorio e così via. È una frase che si dice spesso, ma che ha sempre una sua grande attualità, che insieme si può fare le cose che da soli non si riesce a fare. E poi c'è un omaggio, un omaggio che è arrivato inaspettato, che riproduce con questa copertina d'effetto quella che è un po' un'altra filiera, la filiera della tua storia cooperativa. E già, perché non è iniziata 42 anni fa, ma molto prima, da quando da bambino forse guardavi al mais, vedendo già una storia imprenditoriale. Perché io credo che nella predisposizione di Michele Becchi, soprattutto ascoltandolo e intervistandolo, si possa capire quanta fierezza c'è dietro, non il mestiere, ma la vocazione di cooperatore. Che cosa c'era in quel Michele piccolo, e che cosa c'è oggi in questo Michele grande, che lascia un gruppo così affermato? Nel Michele piccolo c'era, adesso fa un po' effetto dirlo, c'era tanta azione cattolica, c'era tanti valori dell'azione cattolica, delle ACLI, che sono le organizzazioni con cui io sono cresciuto. Nell'educazione di un adolescente prima, di un ragazzo poi, il fatto di aver dibattuto, vissuto e apprezzato i valori di solidarietà, di impegno comune, di mettersi in servizio con gli altri e così via, e soprattutto quello di aver esaltato quelli che sono i valori, ancora oggi, del mondo cattolico, di noi cristiani e così via, è una cosa che poi non ti lascia più. e che poi crescendo cerchi di passare dall'enunciazione dei valori, dei principi all'attuazione di questa roba qui, è di lì che nasce la cooperazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che si mette insieme delle persone che non lavorano per un proprio tornaconto personale, ma lavorano per il successo di un'impresa che poi divide il risultato economico, il valore che ha creato, tra tutti i soci. Ho anche avuto la fortuna di fare numerosi incontri, che sono stati molto importanti. Io ricordo che, ad esempio, per la mia crescita cooperativa, cambiamolo così, è stato molto importante Gerbaudo nella prima fase di concoperative Piemonte e poi la cooperazione con tanti altri dirigenti che sono tuttora in attività. Oggi denotiamo due valori. Sicuramente un alto valore sociale, perché l'impatto sull'agricoltura del Piemonte e non solo, parliamo anche del mais italiano, è notevole con le scelte coraggiose che hanno fatto a livello imprenditoriale, ma direi anche un grande valore umano. Mi piace ricondurre questa affermazione, una figura, direi, statuaria della cooperazione piemontese, cioè quella di Michele Bechis. Sì, oggi è stato un momento anche emozionante perché c'era il nuovo cariche e ho tenuto dire loro quello che penso sulla loro capacità di tutte le cooperative associate, degli amministratori delle cooperative e del consorzio CAPAC e del suo presidente Michele Bechis perché è un alto valore etico amministrare bene. Questo che nella pubblica amministrazione dovrebbe essere sempre il faro. Ho citato anche momenti in cui nel nostro paese gli amministratori hanno creato debito per le generazioni future. L'ho fatto in un contesto oggi dove invece gli amministratori hanno lasciato a quelli che succederanno un patrimonio in termini di anche immobilizzazioni materiali ma anche in termini di capacità di fare gruppo, di fare squadre, di condividere il futuro. Ascoltando la lettura del bilancio soprattutto la lettura della relazione di Bechis ci cade all'occhio la situazione un po' peggiore del 2016 che se vogliamo sottolinea anche il grande investimento in innovazione che hanno fatto in modo coraggioso. Quali sono le parti che sono rimaste più impresse dell'intervento di Bechis? Beh, intanto il fatto che registra un anno di difficoltà un anno in cui comunque si fa ancora un po' di utile e quindi non siamo in difficoltà facendo perdite, bilancio ma poi soprattutto il fatto degli investimenti che loro hanno messo diciamo in ipotesi sul 2017 che concretamente stanno facendo e questo vuol dire che invece sono molto importanti sono, se ricordo 3 milioni e 600 mila euro di nuove strutture e questo da futuro ho visto anche i numeri del ricambio generazionale vado a memoria sono più una cinquantina le aziende che hanno ricambio con nuovi giovani e vuol dire che è una cooperazione moderna che dà futuro alle famiglie e degli associati e questo è il dato più importante E con Domenico Sorasio vogliamo insomma spendere la sua praticità e anche capacità di lettura di un bilancio di cooperativa per andare a sottolineare quella che è la forza stessa del CAPAC di questo gruppo che sicuramente rappresenta un fiore all'occhiello per il mondo della cooperazione direi a livello nazionale un esempio un esempio che è in difficoltà in un mercato che lo è ancora di più e che ciò nonostante si comporta come una delle cooperative modello Certamente il CAPAC è una realtà rappresentativa tra le più rappresentative non solo per il sistema confcooperativo ma di tutta l'agricoltura piemontese se non del nord Italia chiaramente ha risentito il bilancio appena chiuso ovviamente di tutte le problematiche che ha coinvolto diciamo il settore ceralicolo quindi con una contrazione del fatturato però è comunque da far emergere assolutamente che il CAPAC ha chiuso un bilancio in perfetto equilibrio e quindi questo vuol dire una sana gestione e comunque avere molto chiara l'attenzione rispetto ai propri associati All'interno del mondo di Fedagri qual è il posizionamento oggi del mercato ceralicolo grazie alle scelte di diversificazione del CAPAC? Il CAPAC sa intanto guardare avanti certamente c'è un problema ovviamente appunto come vi ho detto prima che conviglia tutto il settore ha nate spesso anche difficili per il riandamento climatico però il fatto di continuare a sviluppare ricerca andare alla ricerca anche di mercati nuovi di prodotti nuovi certamente la pone in una situazione di diciamo migliorativa rispetto ad altri soggetti E con il responsabile commerciale del CAPAC non possiamo fare a meno che inquadrare questo mercato globale dei cereali in modo particolare del mais per capire qual è la posizione del CAPAC ma soprattutto dell'Italia che è uno dei paesi produttori con un calo di produzione importante Esatto l'Italia produce meno dell'1% dei cereali mondiali quindi non partecipa minimamente alla formazione del prezzo dei cereali cioè non incide in minima cioè proprio per nulla o in minimissima parte il prezzo viene fatto la borsa di Chicago e poi da questa borsa a cascata si diciamo va a influenzare tutti i mercati mondiali noi arriviamo da tre anni di produzione di cereali abbondanti quindi i prezzi si sono livellati ai minimi e quindi diciamo così in una situazione poco remunerativa per quanto riguarda la produzione italiana CAPAC in questo sta promuovendo la produzione di mais speciali questo ci permette di andare su dei mercati che sono più remunerativi rispetto al mercato dei cereali comuni ad esempio abbiamo produzioni che vanno per la di mais per la produzione di amido oppure per l'uso alimentare per produzione di birra per produzione di pasta parcelliaci in questo caso i mercati italiani un dato interessante si parlavi proprio del livellamento dei prezzi quindi che sono scesi per via degli stoccaggi importanti di merce però la diversificazione resta nei costi di produzione passare dalle utilities agli specialities ha inciso positivamente li ha fatti aumentare o cosa? Sì diciamo che le specialità hanno una maggiore remunerazione una premialità che quindi viene poi riconosciuta ai soci produttori questa premialità permette quindi a loro di avere una maggiore remunerazione delle proprie produzioni ceralicole quindi siamo così una situazione che migliora il reddito di tutta l'azienda la voce dei tecnici sicuramente è quella che dà il sentimento del grado di innovazione perché loro hanno tutti i giorni contatti con le singole imprese che fanno parte del gruppo CAPAC e quindi visto che la voce delle misure agroambientali come stile di produzione rappresenta un sistema una scelta importante all'interno di questo mondo di cooperative di cerealicole andiamo a sentire proprio da loro partendo da tutto ciò che riguarda anche le nuove filiere parliamo di specialities quindi andiamo a dettagliare un po' la scelta della sostenibilità per quello che riguarda le filiere di mais speciale per quello che riguarda le filiere di mais è sempre più importante differenziarsi sul mercato e il CAPAC porta avanti da tempo il discorso della filiera WOX quindi il mais per l'estrazione dell'amido il discorso dei mais alimentari quindi a basso contenuto di micotossine e anche sul grano si sta diffondendo sempre di più un discorso ambientale di attenzione infatti sono un paio d'anni che Chivasso in particolar modo aderisce a questa filiera di grano Harmony in cui c'è tutto proprio un discorso di attenzione all'ambiente sicuramente a voi compete anche una parte di formazione importante che è quella dei soci dei produttori sì io in particolare che sono la figura del tecnico consigliamo sotto ogni punto di vista le scelte dell'azienda visto che i mezzi tecnici vengono vengono comprati da noi c'è tutto una rete tecnica che abbiamo ampliato proprio negli ultimi anni anche con un servizio telematico chiamiamolo così di sms con cui teniamo costantemente aggiornati i nostri soci sulle normative anche sui consigli proprio dei prodotti da impiegare e andiamo a sentire quali sono queste buone pratiche che già sono in corso e non dal primo anno insomma sì allora sicuramente appunto si fa un gran parlare della scarsità d'acqua soprattutto in questi periodi si vede l'esigenza sicuramente di andare a diminuire le quantità d'acqua distribuite anche nei cereali questo discorso Capac lo porta avanti tentando di migliorare quello che è l'utilizzo delle manichette per l'irrigazione appunto dei cereali e soprattutto del mais allo stesso tempo si migliora la fertilizzazione perché si utilizza azoto in manichetta e quindi viene assimilato molto meglio dalle piante viene distribuito meglio nei campi e c'è molta meno perdita quindi anche anche le falde sono più felici nel senso che comunque si trovano molti meno problemi e l'ambiente sicuramente ne giova insomma e l'ambiente sorriderà anche di fronte alla scelta insomma di investire molto sulla rivalutazione dei sottoprodotti del mais quindi parliamo dei tutoli per cui la scelta di andare a contribuire alla produzione di energia certo sicuramente anche questo è un altro aspetto molto importante che anche qua Capac porta avanti da ormai qualche anno l'utilizzo dei tutoli e degli scarti del cereale come sostanza per mandare avanti le biogas quindi le biomasse è sicuramente un discorso molto importante perché non si utilizza un prodotto principe come lo è il mais ma si utilizzano quelli che sono i prodotti meno meno importanti insomma 5 anni di grandi investimenti da parte del gruppo Capac e andiamo a sentire da un osservatorio interessante cioè quello di un operatore quindi chi vive giorno per giorno l'ambiente degli impianti che cosa ha prodotto questo credere appunto nell'innovazione sul nostro impianto abbiamo fatto delle innovazioni con il montaggio di una selezionatrice ottica così ci ha permesso di lavorare al meglio e poter commercializzare meglio il prodotto quindi fate anche meno scarto diciamo che il prodotto viene selezionato vuol dire che viene pulito in un certo modo e viene lo scarto cioè lo scarto viene fatto il prodotto scartato viene messo da una parte invece quello pulito da un'altra e va a uso alimentare o ad altri usi più specifici per cui guadagnate anche tempo senz'altro ed ora vediamo l'opinione di un giovane socio con un esempio di azienda interessante perché lui occupa diciamo spazio di due filiere quella della carne quindi allevamento di bovini e ovviamente quella del mais in che modo si incrociano in azienda sì io ho un'azienda che alleva bovini piemontesi in grasso e appunto usiamo il mais che produciamo in azienda per per l'alimentazione dei bovini che quindi ci appoggiamo al gruppo Capac specificamente Agri 2000 cooperativa Agri 2000 di Castagnole per l'essiccazione e lo stoccaggio lo stoccaggio del mais che poi riutilizziamo in azienda macinata da quanti anni avete fatto questa scelta? siamo soci di Capac circa da sette anni prima ci appoggiavamo a un commerciante della zona poi il Capac ci sembrava una scelta migliore per la qualità della granella conferita e quindi abbiamo fatto il passaggio quali sono i benefici che ha portato questo tipo di cambio di gestione? i vantaggi sono la qualità del chicco del mais la pulizia del prodotto e poi l'efficienza dell'impianto Renato rappresenti come ha detto Michele il nuovo che avanza ma soprattutto la continuità di un passaggio che è stato in qualche modo costruito dici cos'è il Capac oggi nella tua visione allora Capac è una grandissima cooperativa agricola improntata sui cereali raggruppa oltre 2400 soci indirizzo principalmente maidicolo anche se ci sono altri prodotti minori quali cereali a paglia soia orzo cereali estivi fornisce mezzi tecnici a tutti i soci ritira il prodotto che loro conferiscono e li commercializza valorizzandoli sul mercato oggi Capac ha fatto un lavoro che ha iniziato decenni fa abbiamo raggiunto abbiamo raggiunto circa il 70% di produzione di mais speciali riducendo il mais comune quindi la commodity al 30% e questo secondo me è un grande risultato che oggi ci troviamo l'auspicio per il futuro è che questo percentuale continui ad aumentare e possibilmente che si arrivi veramente al 100% sui mais speciali futuro di Capac continuare la missione intrapresa da Michele Becchis riuscire a superare il cambiamento perché di crisi non si può parlare adesso ma è un cambiamento radicale del modo di ragionare e di affrontare i problemi nell'agricoltura superare anche le difficoltà economiche partendo dall'incremento produttivo delle superfici che i nostri soci hanno come dire come pacchetto in mano trovare anche nuovi soci per poter creare la continuità che cosa vuol dire per te succedere a Michele Becchis è una bella scommessa una bella scommessa comunque in Capac la cosa positiva che a me è sempre come ti è piaciuto è che in Capac non si lascia mai nulla al caso quindi anche questo cambiamento l'abbiamo ragionato insieme deciso come gruppo tutti insieme e quindi siamo pronti e mi sento anche personalmente preparato per affrontare la sfida che il consiglio di amministrazione in prima battuta ma tutti i soci mi chiedono grazie a tutti grazie a tutti